E non avete resistito alla foto in mutande? No, beh, è con noi il leader di azione Carlo Calenda. Buonasera Carlo, benvenuto. Allora, gli ultimi sondaggi hanno rilevato anche azione per la prima volta, qualcuno dice che è anche sopra il 3%, quindi siamo vicini anche in zona Renzi. Senta, ma io le chiedo una cosa, lei crede che gli italiani sentissero la grande necessità di un nuovo partito? Beh, secondo me un po' sì, perché la stensione aumenta. Gli italiani oggi sembrano votare molto poco convintamente, o meglio, votano Salvini perché dicono che sennò arriva l'invasione dall'Africa, votano il Movimento 5 Stelle e il PD perché sennò dicono che arrivano i fascisti e sono poco convinti, cioè votano contro l'altro. E io penso che se non proviamo a costruire un movimento che invece abbia un approccio un po' più pragmatico, cerchi di affrontare alcuni temi di cui si parla relativamente poco, abbia un grande attenzione alla gestione, che è un tema molto sottovalutato in Italia da sempre, si parla solo di riforme. Ecco, penso che se non c'è questo il rischio è che sempre più cittadini si allontani o dal voto. Dopodiché il rischio di fare un partitino è enorme, per me sarebbe stato molto più comodo rimanere nel PD aspettando come si fa nel PD di veder passare i vari cadaveri dei segretari. Dice anche Renzi questa cosa, sarebbe stato meglio rimanere nel PD ma non c'è rimasto un po'. Sì, c'è una differenza però. Io me ne sono andato per rispettare una cosa che avevo detto, cioè che non sarei rimasto nel PD in caso di un accordo con 5 Stelle. Renzi invece se ne è andato inspiegabilmente perché quelli hanno fatto esattamente quello che voleva lui. Sì, è chiarissimo. Senta Calenda, lei lo vede Crozza? Sì. Le piace quando la imita? Ma allora, a me piace, a chi piace da morire è mia moglie perché quando mi imita normalmente mia moglie mi dà del pirla ogni 5 minuti e solo una persona che conosca bene la dinamica familiare può sapere quanto è vera. Allora, guardiamo Crozza e poi parliamo, guardiamo Crozza. Lo dico per trasparenza, non imbrocco una da 30 anni. Ma perché se non è vero, insomma qualcosa... Io ho investito un sacco di sordi su MySpace, credendo di svoltare, ma infatti se la mia azione sarà un partitino, ci scioglieremo, andrà a casa, avrò fallito. Ma almeno ho fallito bene. Grazie per l'onestà. No perché io fallisco, eh. Ma non è detto, non è detto. È matematico. Ma no. Ma è sicura a palla. Ma no. Come che d'estate esce il disco di Alvaro Solere. Ma non è detto. Ma no, guardi, è già scritto. Ma non è vero. A noi non c'è voto un cazzo di nessuno. Ma perché deve partire? Al momento stiamo al 2%, e mia madre mi ha detto che piuttosto che votare me rollo alla scheda elettorale ci si fa una canna. Vabbè, adesso quello che fa sua mamma non ci interessa, magari invece... Comunque, 2, 4, c'ho il cotone nei denti per sembrare... Comunque, 2, 4, non è quello il punto. L'importante è ricacciare ai margini del sistema politico i populisti e i sovranisti. E questo è un obiettivo... Non gliela farò manco destriscio. Ma non l'hai detto. No, perché non gliela faccio manco destriscio. Ma ci credo almeno. Però ci voglio provare bene. Ci voglio provare bene. Bravo. Ed è per questo che ho fondato azione. Oh, ecco. Lo so, che dal logo appare in ambulatorio di odontotecnici rumeni. No, no. No, ma lo dico per trasparenza. Ma non è vero. Ma no, è fatto apposta. Ma come è fatto apposta? Bene. Ma non è vero. Un po' sì, in effetti. Perché? No, ma... Ma perché è fatto apposta? Scusa, capito? Perché metti che uno c'ha un accesso e vede azione preso dal dolore, non capisce un cazzo, magari entra e già che lì dentro si scrive, capito? Ho capito. Evviva Crozza. È geniale. Senta, Calenda. È genio assoluto. Allora, lei ha fatto un nuovo partito. Renzi ha fatto un nuovo partito. Toti ha fatto un nuovo partito. Sembra addirittura che Briatore farà un nuovo partito. Con Renzi. Non sappiamo. Farà un nuovo partito. La risposta è la tendenzione. Il partito del fare. È, bello. Senta, però, io chiedo, ma probabilmente all'orizzonte ci sarà un sistema proporzionale, quindi tutti si vogliono contare, ma questi sono partiti che contano solo sul carisma e la forza del leader. Gaber diceva che deve essere partecipazione nella politica. Qui punta tutto su di voi. Beh, però in realtà, scusi, no. Nel senso che noi abbiamo messo su un gruppo di persone, per esempio, sulla sanità, Walter Ciarti, uno dei progetti fondamentali per noi, la sanità, perché la sanità in Italia sta andando a pezzi dalla più grande conquista che abbiamo avuto, che è una delle persone probabilmente più preparate sui sistemi sanitari nazionali e tanti altri così. È chiaro che un leader da solo non può far niente, ci vuole ricambio di classe dirigente. Ed è la ragione per cui, per esempio, non abbiamo preso parlamentari. È venuto Ricchetti per conto suo, ma la nostra idea è cercare di portare un po' di amministratori locali, tipo il sindaco di Siracusa, che è molto bravo, e un po' di persone che vengono da fuori dalla politica. E cercare di mettere insieme questi due mondi e fare un ricambio di classe dirigente, sennò cambiano i nomi dei partiti, ma le persone sono sempre le stesse. Mi togli una curiosità, Calenda. Che rapporto c'è oggi, se c'è, tra lei e Matteo Renzi? Perché lei è sempre stato molto benevolo nel giudizio politico di Matteo Renzi, ha fatto parte dei due governi, sia Renzi che Gentiloni. Si dice che ultimamente Renzi non sia granché ben disposto nei suoi confronti, sia per la sua dichiarazione su ArcelorMittal, ma anche per questo partito che, secondo me, attinge anche allo stesso bacino. È vera questa cosa? Lei lo sente? Sì, no, no, non abbiamo più rapporti in realtà da quando lui, venendo meno a tutto quello che aveva detto, ha appoggiato un governo con i Cinque Stelle e poi ha fatto la scissione. Perché io penso che la coerenza è un tema fondamentale della politica, perché vede, la politica in fondo è la parola, cioè in questo momento sto parlando. Se si sa già che quello che dico poi viene contraddetto dai fatti, al di là di come uno la possa pensare, quello che succede è che la politica non ha più valore. Allora, io su questo ho avuto una rottura con lui, ne ho avute tante in passato, poi ci siamo ritrovati, però questa è una rottura politica, prima che umana, importante. Poi l'altra cosa che io ritengo proprio inaccettabile è che una persona fa delle scelte nel suo governo e penso tutta la vicenda di Ilva e poi ogni volta è pronto a rimetterle in discussione. Questo non è avvenuto solamente su Ilva, penso a quando ha criticato Minniti sull'immigrazione dopo averlo appoggiato in tutti i modi, tanto che le voleva segretario. Allora, questo tipo di opportunismo per me è inaccettabile, su un piano etico e su un piano politico. Come risponde lei alla critica? So che questa cosa la fa arrabbiare molto, ma ricordo per esempio anche Luca Telese gliela citò. La critica secondo cui è più che legittimo voler fare un partito, ma facendo questo partito in qualche modo lei indebolisce un governo che ha tutti i difetti del mondo, ma che è meno peggio rispetto a quello che ci sarebbe di qui a pochi mesi, perché sembra che vinca la destra. Cioè in qualche modo lei farebbe il gioco di Salvini, involontariamente. Io non lo penso assolutamente per una ragione. Vede, io dicevo, andiamo alle elezioni, perché un governo che viene costruito come è stato costruito questo governo, cioè raffazzonato nel giro di dieci giorni senza chiarezza di programma, eccetera, non governerà bene e farà crescere ancora di più la destra. Non solo, farà risaldare Forza Italia con Salvini. Ora quello che è successo è esattamente questo, cioè che oggi la destra è più forte di sempre. Allora quello che io dissi all'epoca, io non sono d'accordo a un accordo tra Cinque Stelle e PD, però se lo dovete fare misuratevi alle elezioni, perché questa cosa costruisce c'è anche il cemento che poi fa nascere un'alleanza elettorale e un'alleanza politica. Se no, vede, è nato il governo, non è nata l'alleanza politica e l'insieme delle due cose sta costruendo un percorso per cui la destra si rafforzi. Sì, però così avreste avvallato il desiderio di Salvini di andare alle elezioni, cosa che non era nelle sue disponibilità, perché c'è un Parlamento. No, ma scusi, ma Salvini non aveva nessun diritto di dire se si poteva andare alle elezioni o meno. Ma lui le chiedeva gran forza. No, certo, ma non aveva nessun diritto di pretenderle. E infatti non c'è andato. Io penso che politicamente sarebbe stato utile farlo, ma questo non c'entra in niente. Ho l'idea sempre che chi difende la democrazia liberale la debba difendere nella democrazia, cioè scontrandosi, recuperando la rappresentanza, perché se no alla fine quelli vincono sempre. Questo è chiaro. Senta, parliamo di cose scottanti, perché ha visto che con la fondazione Open di Renzi ci sono state tante polemiche, indagini e perquisizioni della Guardia di Finanza. Però noi lasciamo stranamente la cosa ai magistrati, non ne vogliamo parlare noi. Chi finanzia Azione? Azione è finanziata da contributi ovviamente individuali, oggi tesseramento, e da imprenditori che hanno alcune caratteristiche. Uno, devono essere imprenditori di mercato, per esempio non ci sono costruttori dentro, cioè non devono fare gare pubbliche. Quindi imprenditori che vivono del mercato. Il nome di questi imprenditori viene trasmesso ogni due settimane, credo, per la normativa di cui io sono, penso sia stata cosa positiva, dello spazio a corrotti, che prevede, e questo già da siamo europei in poi, anche quando siamo europei non era un partito, basta che ci sia un politico dentro, che ogni due settimane o tre settimane al Parlamento venga inviata la lista dei donatori, praticamente tutti, non mi ricordo qual è la soglia, ma insomma è una soglia bassissima. Ma la cosa delle fondazioni, cioè voglio dire, un politico fa una fondazione, la fondazione ha il diritto alla privacy, non si può sapere chi la finanzia. Non è più così, oggi non è più così, infatti Open chiude nel 2018, oggi la norma spazzacorrotti ha deciso, dal 2019, cioè da quando io ho fatto siamo europei non era un partito, ma già si applicava lo spazzacorrotti, perché? E anche a una fondazione, perché? Ma se c'è stata la polemica l'altro giorno perché sembrava rinviassero la questione della trasparenza sulle fondazioni? Ma non le fondazioni dove ci sono i politici, perché oggi quello che si dice è che se tu sei un politico, sei stato un politico, sei stato anche un ministro, io non ero parlamentare, per dieci anni entri in una fondazione o in qualunque associazione, tu devi dichiarare ogni contributo. La norma è giusta, è stata fatta male perché? Perché se un parlamentare entra in una bocciofila, la bocciofila teoricamente è sottoposta alla normativa sui finanziamenti dei partiti. Però io l'ho applicata dal primo giorno, tant'è che voi ne avete anche scritto sul fatto dei finanziatori, eccetera, ed è tutto trasparente dal primo giorno come deve essere un partito politico, ed è una norma sacrosanta che peraltro vieta anche che si prendano finanziamenti da chiunque non sia cittadino italiano, cioè che ci siano finanziamenti dall'estero, cosa che mi spiega giù. Assolutamente. Un'altra critica che le è stata rivolta spesso anche da me, lei lo sa bene, è quella di ogni tanto andare un po' troppo oltre nelle sue reazioni. Io ricordo una battuta secondo me meravigliosa da parte di Bersani che in televisione disse bisogna stare attenti a quello che diciamo altrimenti ti arriva un tweet in fronte di Calenda, e un po' è vero. Lei ammette di esagerare a volte, sia sui social sia in televisione, o rivendica ogni cosa che ha fatto? No, no, ammetto tantissimo. Io sono un grande passionale e come tutti i passionali vanno oltre e quando vado molto spesso mi sono scusato con le persone con cui sono andato oltre. Quello che cerco di fare su Twitter, che è la cosa che non fa quasi nessun politico, è rispondere. Rispondo tantissimo sulle questioni di merito, soprattutto su chi non è d'accordo, perché se sono utili i social sono utili per questo, io li gestisco da solo, ci dedico un'ora la mattina e un'ora la sera, che è tanto, e faccio questo lavoro. Ogni tanto mi parte la frizione e per cui rischio di dire... Su quella sedia, più o meno qualche mese fa, sedeva Giorgia Meloni che a questo proposito disse che l'avrebbe querelata perché lei in uno scambio Twitter, a un certo punto se non sbaglio la definì, la versione burina del Ku Klux Klan. Mi chiedo se le è poi arrivata la querela, non le ha chiesto scusa? No, non le ho chiesto scusa perché lei ha detto una cosa gravissima, ha fatto un tweet in cui ero contro i matrimoni misti e io risposi che questa roba qui neanche se uno fosse la versione burina del Ku Klux Klan, quindi non le ho detto lo sei, non fare la versione burina del Ku Klux Klan. Dopodiché lei ha risposto con una risposta, diciamo, forte, perché ha detto no, ma io non sono preoccupato, non stavo parlando dei matrimoni misti tra un nero e un bianco, ma sto parlando dei matrimoni misti tra uomini e animali, che come noto è il principale problema dell'Italia, noi vediamo centauri ovunque che si accoppiano. Quindi voglio dire, era una roba dell'Iran. Però quando le parte la frizione, le è partite anche qualche giorno fa, Flavio Briatore posta un video degli Emirati Arabi, credo in Arabia Saudita, dove fa vedere che è a cena con Renzi. Lei dice, deve stare attento Renzi alla sua reputazione. No, non è andata così. Mi fanno una domanda in cui mi dicono, il Movimento 5 Stelle è influenzato dalla Cina, la Russia influenza Salvini, secondo lei c'è il rischio, visto che Matteo Renzi è andato in Arabia Saudita con Briatore, che l'Arabia Saudita influenza Renzi? Io ho detto, no, non mi pare che ci sia un rischio per la sicurezza nazionale, c'è un rischio forse per la sua reputazione. Guardi cosa le ha risposto Briatore, dice, meglio che stia zitto perché non lo votano nemmeno i familiari, poi le ha dato del traditore perché ha tradito il PD, cosa risponde a Briatore? Ma non gli rispondo a Briatore, io guardi, non ho uno yacht, sto con la stessa donna da 30 anni, non sono un pregiudicato, quindi non ho niente in comune con Briatore. Prima ha detto che lei qualche volta ha chiesto scusa per i suoi sconti, ha detto non l'ha fatto con la Meloni, men che meno con Briatore, a chi ha chiesto scusa? Per esempio Riccardi del Mulino, che è una persona intelligente, che per un periodo è stata con me molto aggressiva sul fatto che io non sopporto dire sei di sinistra, non sei di sinistra, sei di sinistra, non sei di sinistra e gli risposi molto male e mi scusai pubblicamente, è successo tante volte, ma è successo anche sulle cose politiche, per esempio io ho molto criticato il decreto dignità di Di Maio, in molte sue parti, poi invece un pezzo ha funzionato che è quello della trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, io glielo ho riconosciuto pubblicamente, non ho nessun problema a farlo e non posso essere sospettato di sinistra. E questa è una notizia, però mi domando, una volta per tutte, mi dà una sua valutazione il più sintetica possibile se le va del Movimento 5 Stelle, perché ogni volta che ne parla lei più o meno li descrive come una sorta di minus abens della politica, o comunque li bastona parecchio spesso, ho sbagliato io finora o no? No, ha perfettamente ragione, io li considero nella classe dirigente questo, in larghissima misura, non li considero affatto in coloro che li hanno votati nella speranza di spezzare una spirale che sembrava una spirale di stagnazione italiana, non ritengo che siano riusciti a tradurla e con un'attenzione, io ho scritto anche nel mio libro, io non ritengo grave che Di Maio sia diventato ministro avendo venduto bibite al San Paolo, perché quella cosa si chiama rappresentanza, ti danno un voto, non me ne frega niente, ha fatto un lavoro e è stato votato al diritto di fare ministro. Quello che per me di Di Maio è inaccettabile, uno è la mancanza di assunzione di responsabilità sempre, nel senso che lui firma il contratto con Mittal, dice abbiamo risolto la crisi, poi dice no io non c'ero, non l'ho fermato, secondo il fatto che lui al Mise, al Ministero dello Sviluppo Economico, ha mandato via tutte le persone in gamba che non avevo messo io che ho trovato lì e ci ha messo tutti i suoi, perché allora se tu non hai l'esperienza e ti fai aiutare va bene, se tu invece non hai esperienza e non ti fai aiutare c'è un'espressione napoletana molto bella che si chiama ciuccio e presuntuoso, io credo che Di Maio sia un po' ciuccio presuntuoso. Questa l'ha toccata piano anche qui. No, dico le cose come le penso. Sì certo. Sull'ex Ilva diciamo che c'è stata la richiesta di Mittal, un esubero di 4.700 persone, inaccettabile per il governo. Adesso senza entrare nella questione che ha sviluppi intricati, io le chiedo ma non è mai colpa di nessuno in Italia? Lei ha perfezionato un accordo, Di Maio lo ha perfezionato ulteriormente e poi alla fine di chi è colpa? Del fatto che si è saltato il contratto. Ilva non è stata venduta, Ilva è stata venduta con un contratto di 5 anni. Questo contratto di 5 anni prevedeva 0 esuberi e per ogni esubero dichiarato da Mittal 150.000 euro di penale e gli investimenti. Vi siete domandati come mai 18 mesi che Mittal perde non aveva fatto un esubero. Come mai? Perché non lo poteva fare contrattualmente. E quando loro levano lo scudo penale, anzi quando iniziano a levare lo scudo penale, a giugno Mittal dice attenzione io me ne vado perché quello mi dà la possibilità di andare in tribunale e impugnare il contratto. Facendogli impugnare il contratto in piena crisi dell'acciaio cosa hanno provocato? Il fatto che questo adesso c'è il coltello dalla parte del manico. Gli acciaieri non sono santi, sono gente con un pelo sullo stomaco largo così. Noi avevamo incastrato Mittal in un contratto onerosissimo che stava eseguendo perché il ministro Costa dice che il piano ambientale era perfettamente in linea. Ma questo vorrei spiegarlo con grande chiarezza. Non tutto proprio in linea. No, il piano ambientale è quello che dice Costa. No, quello che dice Costa. Non hanno licenziato una persona avendo perso 800 milioni. Perché? Perché sono buoni? No, perché c'era un contratto che gli impediva di farlo. Questo contratto, farlo saltare, è stata una cosa demente. E la prima cosa che farei oggi io è rimetterei lo scudo penale e gli obbligherei a sedersi a rispettare quel cacchio di contratto. Le faccio sentire le parole di una blogger tarantina, Stella Pulpo, che ha usato parole molto toccanti su una questione fondamentale riguardante l'ILVA. D'accordo i contratti, d'accordo tutto, ma a Taranto si muore ancora. Rosa Palasciano ce la legge. A 18 anni a Taranto puoi votare, puoi guidare la macchina e puoi anche aver già visto un buon numero di persone che sono a teccare morire. Immaginate come sia vivere cercando un armistizio costante con la morte. Chiedendosi quanto tempo resta prima che ciò che sta succedendo a tutti i miei amici e ai miei conoscenti capiti anche a me e ai miei cari. Prima che la peste nera contagi anche la tua esistenza, segnandola in maniera indelebile. Allora, queste sono parole che potrebbero fare proprio tutti i cittadini di Taranto. Si parla, ripeto, molto di contratti, di mittale tutto, ma sul piano ambientale non deve essere la priorità questa. Si. Le faccio una domanda. Io non ho messo Ilva in mezzo alla città di Taranto, è stata messa, anzi quando è stata messa è stata accolta come se fosse arrivata la salvezza per il lavoro eccetera. Ora, qual è l'unico modo per metterla a posto? E' fare gli investimenti ambientali. Qual è un altro modo? Bagnoli, quando è stata lasciata, Bagnoli sta ancora lì, per 30 anni, anzi di più di 30 anni, ormai 40 anni, ha continuato a inquinare. Ed è grande un terzo di Ilva. Un terzo, un decimo di produzione, un terzo. Se noi lasciamo Ilva domani mattina, lì dentro continuerà a inquinare per sempre. Ma è un'utopia la riconversione? No, non è un'utopia per niente, nel senso di poterla far diventare l'acciaieria più verde d'Europa. Ma bisogna metterci tanti soldi. Aggiungo una cosa, vorrei che noi fossimo molto chiari quando si parla di malattie. Ilva ha inquinato tantissimo perché produceva senza nessun criterio ambientale nel periodo in cui è stata dello Stato e nel periodo in cui è stata deriva. E produceva tantissimo, quindi emetteva tantissimo. Oggi tutte le emissioni di Ilva, tutte, monitorate dalla Regione Puglia, sono dentro i parametri di norma, se no verrebbe chiusa istantaneamente. E l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto due anni di studi, sono reperibili sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dove è andata a misurare con i prelievi la presenza di metalli pesanti. Oggi Ilva, così com'è, è dentro i parametri ambientali. Quello che va bonificato, e per bonificarlo, noi abbiamo preso un miliardo e cento milioni di euro ai riva. E il fatto che ci sia tutto questo macello fa sì che non inizino le bonifiche. Quindi l'unico modo per sanare Ilva e fare quello. Dopodiché io ho sempre detto, dal primo giorno, che se... Premetto che non parlo a nome di tutta la città di Taranto, perché quattro anni fa ci fu un referendum che disse che la maggioranza dei cittadini di Taranto voleva avere l'Ilva aperta. Detto questo, l'avrà voluta aperta ma non inquinante immagino. Ma certo, deve essere aperta e non inquinante. Ma se tu mi dicessi oggi, ma cosa scegli? Ilva come adesso o la chiusura? Io direi la chiusura. Ma non ci penso proprio. Non penso che possa rimanere in queste condizioni. Non è in discussione, ma non per altro. Ma perché tra l'altro sta andando anche a pezzi, è anche pericolosa. Per cui bisogna investirci tanti soldi. E Mittal ci investiva 2 miliardi e 4. Però bisogna farle le cose, perché se no continuiamo, se non facciamo niente, la situazione è peggiora. Guarda, vada a parlare a Bagnoli. A Bagnoli sono disperati. Lei prima Calenda ha detto la coerenza per me è importantissima, anche per questo ci sono state frizioni con Matteo Renzi. Me la spiega allora la sua frase di qualche settimana fa quando lei sostanzialmente disse ho creduto per anni nel liberismo, ma ho fatto una stronzata. Ho detta un po' più complicata di così. In realtà io ho scritto un libro e applico quello che ho detto da quando sono al Ministero dello Sviluppo Economico. Io ho pensato per un lungo periodo, come tutti i progressisti, che il mercato e la globalizzazione avrebbero risolto ogni contraddizione che si sarebbe formata. Cioè sarebbe aumentato il benessere per tutti. E che alcune ipotesi che facevano i liberisti, faccio un esempio, non bisogna difendere i posti di lavoro, ma il lavoro, questo vuol dire che se un'azienda non funziona si chiude e poi i lavoratori troveranno un altro posto, fossero veri. Quando sono arrivato al Ministero dello Sviluppo Economico mi sono reso conto che quella cosa che io ho visto sempre dalle aziende vincenti del Made in Italy, dalla Ferrari, da Sky, era una beata cacchiata. Perché quando tu hai davanti un lavoratore che ha fatto compressori per 30 anni e quel lavoratore perde il lavoro perché si sposta la fabbrica in Slovacchia, cosa che è un assurdo perché la Slovacchia è dentro l'Unione Europea, prende i contributi e ti ruba la fabbrica, quel lavoratore l'idea che tu gli trovi il lavoro nel settore delle app è una beata cazzata. E questa cosa non è che io la sostengo da ieri, la sostengo, c'ho scritto un libro sopra, da il giorno che ho varcato la soglia del Ministero dello Sviluppo Economico. E io penso che sia nella politica poter dire cari signori, pensavo una cosa, ho capito che quella era una faccata. Sì, non è da tutti, però questo le fa anche onore. Ma io le chiedo però, dove la collochiamo? Dove la colloca l'elettore adesso? Per me è quello che io ho scritto, questo partito si chiama Azione, perché è nel solco di quello che è stato il Partito d'Azione. Il Partito d'Azione era un partito, all'epoca si chiamava liberal-socialista. Quello di Ferruccio Parri sta parlando. Esatto, teneva insieme la libertà della persona, i diritti, quindi non accettava del socialismo l'aspetto, come posso dire, cupo di controllo delle persone, ma allo stesso tempo sosteneva che il progresso della società è la cosa più importante, perché sa cos'è oggi tutto quello che stiamo vivendo nell'Occidente, da cosa è derivato? Che il progresso è andato a 300 km all'ora, con punti avanzatissimi. La società è andata a 5 km all'ora e basta guardare i dati sull'analfabetismo funzionale per capirlo. Come fa uno a vivere in una società così complicata. Era un'esperienza meravigliosa fatta da persone straordinarie, lei sa bene che non ebbe grandissima fortuna, purtroppo, aggiungo, perché pare di una persona spendita. Io lo so, ma penso che quella è la strada, la strada è tenere insieme questi due mondi, il mondo della comunità e della società e il mondo della libertà. E se non ce la facciamo è un po' chiaro. Quando lei argomenta, lo sta facendo anche stasera con dovizia di particolari, mi dice fuori dai denti cosa prova quando per esempio dall'altra parte avverte un parlamentare o un politico importante che non sa nullo, sembra sapere pochissimo. Le faccio un esempio, l'ho vista giorni fa in televisione davanti c'era Lucia Borgonzoni, che invitiamo in questa trasmissione, quindi poi lei si difenderà sotto il suo punto di vista. Io l'ho vista in grande difficoltà, ma non perché lei non sapesse, ma perché dava la sensazione di parlare un po' da solo. Cosa ha provato lì? Perché lì sembrava proprio una discrepanza totale tra voi due. Magari sbaglio io. No, ma lei non sbaglia. C'è un punto che nessuno se ne rende conto. Non nessuno legge una carta. Cioè, voi lo dovete capire, perché se non lo capiscono i cittadini, non lo capisce nessuno. Nessuno legge una carta. Né di destra né di sinistra. Una grande parte. Salvini ha detto del MES, delle cose che non esistono, che è un istituto privato, che ci abbiamo messo 63 miliardi. La Borgonzoni è venuta a intervisione a fare un confronto sul MES senza essersi letta una carta. Tant'è che io gliel'ho detto dopo, ma scusa ma non potrei leggere una pagina? A leggere a mezz'ora? Ma certo, perché i confronti sono belli. Io le faccio un esempio di uno che la pensa all'opposto di me. Bagnai, vuole uscire dall'euro. Però ho fatto un confronto. A un certo punto lui mi ha detto, guarda che nel trattato all'articolo 15, ci siamo messi lì a leggere il trattato. Lei entra molto nella questione. Ovviamente inviteremo anche lui a Borgonzoni. Ovviamente. Noi invitiamo tutti. Ma certo. Non si può di faccio. Era una curiosità mia. Vi faccio vedere però, coloro che non leggono i dossier, che tipo di risposta hanno dagli elettori e dai cittadini. Guardi quando Matteo Selvini si sposta per le strade e cosa succede. Guardi. Guardi. Questo radice lunga su una cosa che poi le chiederò, però vede come si muove lui, usa i social molto bene, le faccio vedere una cosa che ha postato lei invece quando ha presentato azione con un titolo dal trentino con furore, sembrava arrivassero carovani di persone, guardiamo il video. Però c'erano, no perché sennò sembra che eravamo quattro gatti, c'era, no no sembra, no ma io ho messo perché erano dei giovani militanti che mi hanno mandato un video che venivano dal trentino alle cinque di mattina, sa quanta gente c'era? C'era tutto il teatro Eliseo e tutto il piccolo teatro Eliseo connesso e abbiamo dovuto mandare via 200 persone, scusi non faccio la gara con Salvini. No ma la domanda era su un'altra cosa, contano più i social di leggere i dossier oggi? Sì contano per una ragione, guardi io la vedo in questo modo, le persone sono rassicurate dal fatto di sentire un politico che gli dice le cose che vogliono sentirsi dire e gli dicono le cose che loro provano, si è persa la dimensione del politico che cerca di risolvere le cose, faccio un esempio, se voi vedete Giorgia Meloni che è bravissima, la Meloni si siede e dice ieri ho visto un extra comunitario che faceva pipì su un muro, è inaccettabile, sì va bene, allora però ditemi una proposta, una proposta della Meloni. Il blocco navale sull'immigrazione. Ma che, ma figurati, una proposta vera, cioè cosa fai sull'economia, sull'immigrazione, ma no, ma non sono, sono delle robe vuote, perché cosa è, qual è la reazione che vogliono provocare? La sensazione delle persone che dicono, oh, sto nella mia area di conforto, hai visto che dice quello che penso io, che dico al bar io? C'è un piccolo dettaglio, che quando uno va al governo deve risolvergli i problemi e tu vai lì a fare il servitore, cioè io vengo pagato da loro che stanno lì, al Parlamento Europeo, quando vado al Parlamento Europeo. Dunque, la domanda è, se tu vuoi uno che ha lo stesso livello di approfondimento che hai te, il paese non andrà... E questo è chiaro, però a questo punto Calendire devo far vedere una foto, perché lei ha ragione, però anche lei usa i social, e lei una volta per tutte mi deve spiegare cosa aveva nella testa quando ha postato questa foto. Eh, lo sapevo che c'era. Eh, però deve uscire. Era certo. È tutto giusto, però... Che causa del suo malo. Questo però me lo deve dire, perché lei dei contenuti... È un'inquadratura stretta, in cui la pancia aumenta. Questa è il regista che è cattivo. Allora, cosa c'avevo nella testa? C'avevo nella testa questo. Io faccio il bagno, grazie al mio fisico tipo Foca, a ogni temperatura. E mi sono fatto un bagno a febbraio in un laghetto di montagna ghiacciato. L'ho mandato ai miei amici, perché facciamo questa gara a vedere... Hai visto che... E quel mio amico mi ha detto, oh, sembri Putin con la pancia. Va bene? Allora, io l'ho postato dicendo, avete visto che anche i democratici sono tosti come Putin? Era uno scherzo. Dopodiché dico una cosa. Io ho la pancia. E quando i politici se ne fregavano della pancia, il mondo era un posto migliore. Non faccio, come posso dire, non faccio il tronista. Non faccio il modello. Me ne frego di avere la pancia. E il tatuaggio c'è sempre? Viva la pancia! Il tatuaggio dello squalo c'è sempre. No, aspetta, non lo voglio vedere anche il tatuaggio. Io voglio vedere anche il tatuaggio. Il tatuaggio c'è. Io l'ho fatto vedere che stavo in trasmissione con la sardina. Ah, sì, con Mattia. Io ho detto a sette. Io l'ho fatto vedere. Senta, c'è una cosa, visto che stiamo in conclusione... Però, aspetta, stiamo in conclusione, una curiosità veloce. Lei attacca spesso Beppe Grillo, comunque 5 Stelle. Ha una cosa in comune però con Beppe Grillo. Sa qual è? Beh, mio nonno gli ha fatto un film. Io dico sempre che io non me la posso prendere come... C'è Gesù nel 1982? No, la responsabilità di Grillo, io sono convinto, è di mio nonno. Ecco. Perché mio nonno ha fatto un film... Che era Luigi Comencini. Sì, che era Luigi Comencini. Che io andai pure a vedere il set. in cui prendevano una persona e il Vaticano per rilanciare l'immagine di Gesù ed era Beppe Grillo perché ci assomigliava e dopodiché questo più o meno diventava Gesù. E lì è nata la megalomania di Grillo. Io sono convinto che è nata lì. Certo che lì è nata. Lei è stato uno dei protagonisti dello sceneggiato Cuore. Due anni dopo cercasi Gesù. Era un po' raccomandato dal nonno. No, ero totalmente raccomandato dal nonno. Avevo dieci anni. E si innamorò di Giuliana De Sio. Sì, è bellissimo. Ci credo. Senta Calenda, allora, le dicono una cosa... Ed ero pure un cane d'attore, quindi è peggio che era raccomandato. Era raccomandato ed ero pure una pippa. Aveva dieci anni. Non ero peggio. Sì, però hanno dovuto cancellare due scene dal copione perché non riuscivo a fare. Non esagerare. No, no, giuro. Poi lo so che crozza adesso questo. Senta, le danno un po' del pariolino che per chi non è di Roma... Non ci ho mai vissuto. Non ci ho mai vissuto. Le avevo detto che sarà ghiato. Eh che caccio. Ma datemi del centro storichino. Non glielo sto dicendo io. Le danno un po' del pariolino. Per chi non è di Roma significa un po' fighetto, il quartiere è ricco. Ma te sembro fighetto. Guarda. No. Stasera no. L'hai vista la foto? Stasera poco. Senta, allora noi abbiamo chiamato Alberto Laurenti, che è un bravissimo cantante, che ci canterà tanto per cantà. Io scanzi la canteremo. Se vuole cantare anche lei, vediamo, vediamo, vediamo. Io devo cantare. Prego, 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 santa. Vado a cantare. Oh, tanto per cantà, perché me sento un friccico nel cuore, tanto per sognà, perché nel vento me ce n'aschi un fiore, fiore dell'illà, che ma riporti verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e ma rintotto l'iva le pucine. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Allora, allora lei è un pariolino, paro, scusi. Questa è una canzone romana. La cantava la mia mamma. E perché non l'ha cantata? Ma perché sono stonato e mi vergogno. Poi mi fate, poi la canto, e poi la prossima puntata mi rifate, invece che in mutande io che canto, che facciamo? Mi caso scemo. Furbo, capiamo. Grazie, allora grazie di essere stato qua. Grazie a voi. Grazie mille.